...perfetto. Cosa fai a livello di vita? Menzionata a metà. La parte di sotto, la parte di sotto. E l'altra metà? Non ho mai sentito questa cosa. Ah, la mattina lavora e a pomeriggio si diverte. Bravissimo. Ascolta, dipende da tante cose. Ascolta, come lo vorresti con l'uomo? Spendiamo da tante cose. Quando? Ah, ma mi chiedevo, non so io che mi devo tornare a dire, non lo sappiamo. Sono gli uomini di stasera che devono sapere come devono contagiare. Ah, ovviamente, sportivo. Sportivo. Beh, un uomo sportivo. Scusi, un uomo sportivo. Insomma. Eccolo.